Incontro in Regione a Pescara sulla situazione di crisi della società concessionaria delle terme di Caramanico e sul futuro occupazionale dei lavoratori e del comprensorio. Dopo l'appello lanciato al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Abruzzo dai sindaci di Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo-Citeriore, Sant'Eufemia Maiella e Tocco da Casauria, nell'incontro odierno il sindaco di Caramanico, Simone Angelucci, ha ricordato che esiste il rischio che i servizi possano essere interrotti e che a maggio le terme non riaprano i battenti con ripercussioni drammatiche sull'intero comparto termale regionale, sulla vita sociale ed economica del comprensorio della Maiella Pescarese, sulle circa 180 famiglie coinvolte direttamente ai rapporti di lavoro con la società concessionaria e sulle circa 200 famiglie coinvolte indirettamente dall'indotto che è costituito da 1.100 posti lettoalberghieri e altrettanti extralberghieri, servizi di ristorazione e al turismo in tutta la Valle dell'Orta. Questa cosa si può fare in due modi almeno, la prima il rifinanziamento della legge regionale sul termalismo che abbiamo già avuto dalla precedente legge di stabilità regionale con un preciso stanziamento e la seconda che è necessario chiudere in questi giorni è il rinnovo del contratto per le prestazioni termali con la regione Abruzzo al quale contratto la società concessionaria che è in difficoltà gravi, difficoltà finanziarie chiede di poter aggiungere anche le prestazioni riabilitative quindi stiamo facendo questa verifica insieme alla regione chiediamo di fare le opportune verifiche affinché al più presto questo si possa realizzare e finalmente i cancelli delle terme possano riaprirsi come è sempre avvenuto negli ultimi 120 anni. Nel corso della riunione gli assessori regionali alla sanità Nicoletta Verì, al lavoro Piero Fioretti, al termalismo Nicola Campitelli hanno spiegato che bisogna valutare attentamente la situazione e trovare soluzioni. Vero che siamo in un piano di rientro, però siamo in un momento in cui ci hanno lasciato in eredità quello che è proprio il piano delle prestazioni e delle cure riabilitative, quindi lo stiamo valutando. Sono le azioni effettivamente in capo a noi, il problema è che non è una cosa esclusivamente regionale in quanto lì c'è una società che è privata, che logicamente dovrà affrontare tutte quelle situazioni che sono tipiche di una società privata che essendo in liquidazione deve dimostrare quali sono le idee per il futuro.